buongiorno sono gianfranco consulente nissan di gruppo carmeli e oggi ti presento nuova nissan cascai business con motore a gasolio si tratta di un 1.5 di cilindrata da 115 cavalli omologato 6 di tempo il design moderno viene sottolineato dalla presenza di fari diurni a led dalle frecce integrate nei retrovisori laterali dai cerchi lega da 17 pollici dall'antenna shark nonostante le dimensioni compatte cascai raggiunge livelli di abitabilità di veicoli di segmento superiore 5 posti comodi e il bagagliaio di circa 400 litri ne sono la prova il cambio è un automatico dct a doppia frizione che rende cascai incredibilmente performante e divertente da guidare 6 airbag a proteggere tutti gli occupanti abs e controllo di stabilità e soprattutto il safety pack con frenata assistita e riconoscimento pedoni avvisatore di invasione corsia involontaria sensori di parcheggio anteriori e posteriori fari abbaglianti automatici e riconoscimento dei cartelli stradali collocano cascai ai vertici per sicurezza attiva e passiva l'aspetto tecnologico è da sempre uno dei punti forti per nissan quindi su questa cascai non potevano mancare il navigatore pre mappato europa e il carplay e a questo aggiungiamoci il computer di bordo colori da 5 pollici tft inoltre il volante multifunzione con cruise control limitatore di velocità regolazione audio e bluetooth ti permette di mantenere sempre gli occhi sulla strada se ti è piaciuto il video lascia un commento qui sotto o chiamaci allo 030 77 24 011 i nostri consulenti saranno sempre a tua disposizione